Cioè, quali sono i passaggi più eclatanti che ti portano, ok, d'accordo alla conclusione che Yahweh non è il Dio creatore, ma poi ci deve essere... Il passaggio successivo. Il passaggio successivo è che Yahweh usava macchine volanti, usava armi ad alta tecnologia, armi che producevano effetti che la Bibbia chiaramente descrive, che nella Bibbia c'è descritto chiaramente che alcuni dei grandi personaggi, tipo Enoch, per esempio, Enoch viene preso dagli Elohim e portato via, e mai più nessuno l'ha visto. E tra l'altro di Enoch si dice che prima di essere portato via andava avanti e indietro con gli Elohim, quindi aveva una frequentazione di salite e discese. Tra l'altro nella Bibbia c'è scritto che suo padre si chiama Yared, Yared deriva dal verbo Yarad, e siccome loro fissavano nei nomi eventi importanti, vuol dire che al tempo del padre di Enoch c'è stata una grande discesa, cioè una discesa molto importante. Dopodiché Enoch è stato scelto da loro, frequentava loro, come dice la Bibbia, andava avanti e indietro con loro, dopodiché a un certo punto se ne va con loro e mai più nessuno lo vede. E camminò con Dio. Esatto, e camminò con gli Elohim, dice la Bibbia, non con Dio. Poi con Dio, esattamente, viene tradotto dai teologi, ma lui camminò con gli Elohim. Dopo Elia fa la stessa cosa, viene preso e viene portato via e mai più nessuno lo vede. E Ezechiele sale su Ruach e dice, tra l'altro, e questo cito proprio la traduzione in una delle Bibbie delle edizioni di San Paolo, quindi non traduzione mia, c'è scritto che Ezechiele dice che un Ruach lo prende, lo tira su, cioè se lo porta su, e dice, senti dietro di me un rumore di gran terremoto mentre il cavod di Yahweh si alzava da quel luogo. Quindi, come dire, il cavod di Yahweh è un qualcosa che fa rumore, fa rumore mentre si alza, se ce l'hai dietro la schiena magari non lo vedi ma senti il casino che fa. Questo lo dice la Bibbia, ma nelle traduzioni, ripeto, delle Bibbie che abbiamo in casa, perché sto citando la traduzione di una delle Bibbie delle edizioni di San Paolo. Quindi, allora, loro usavano, poi si dice che Yahweh usava appunto, aveva un'arma di fronte che, come dire, prima si scaldava e poi colpiva e bruciava chi gli stava davanti. Il cavod di Yahweh era un qualcosa che poteva non essere guardato da davanti perché produceva degli effetti mortali e Yahweh non era in grado di controllarne gli effetti, tra l'altro, quindi lo si poteva guardare solo di dietro dopo che era passato. Insomma, ci sono tutta una serie di... Yahweh usava lo Zira, Zira un'arma che viene tradotta anche qui con api e calabroni. Con api e calabroni? Sì, esattamente, tra l'altro è un termine singolare e Zira, nei dizionali c'è scritto che è un qualcosa che colpisce la pelle, la brucia e produce danni fino alla prostrazione, cioè a seconda dell'intensità con cui veniva applicata poteva o bruciarti la pelle, ed è per questo che viene tradotto con api, perché le api fanno bruciare la pelle quando ti pungono, oppure poteva procurare la morte, quindi usava questi tipi di armi, si spostava appunto con il suo cavod, c'era i ruach che era un qualcosa di molto più grande, i cherubini, i cherubini sono chiaramente descritti come macchine volanti monoposto, e c'è scritto che Yahweh ci volava seduto sopra stando seduto come si sta seduti a cavallo. E questa è la traduzione letterale? Ma questo è proprio letterale nella Bibbia, cioè il verbo è cavalcare, cioè stare seduti come si sta seduti, ma non è un'interpretazione di Biglino, è nei dizionari. Per esempio, non so, nella Bibbia noi troviamo sempre il termine eternità, che in ebraico è olam, bene. Se noi prendiamo il dizionario di ebraico-aramaico-biblici della società biblica britannica, alla voce olam, la prima frase è non tradurre con eternità, si tratta di un tempo molto lungo, noi nella Bibbia troviamo sempre eternità, ma addirittura scritto nei dizionari, non è un'interpretazione di Biglino. Quindi il giochino di trasformare in escatologico quello che in realtà era un tempo finito? È continuo e viene riaffermato continuamente, io dico nonostante l'evidenza.